Ci è voluta la prosecuzione dell'ultima seduta in notturna, ma alla fine il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano ha esaminato e approvato nella sessione di giugno tre disegni di legge. Il primo, d'iniziativa SVP, prevede aree di pascolo protette e misure per il prelievo dei lupi e permette in caso di urgenza e dopo aver atteso senza esito per dieci giorni il parere di Ispra e Osservatorio Faunistico Provinciale, che il Presidente della provincia possa autorizzare con decreto un eventuale prelievo. Esso è stato varato con 25 sì, 4 no e 2 astensioni. Parte dell'opposizione ha ritenuto che si trattasse di una protesta a scopo elettorale e a rischio di impugnazione, altri che essa fosse necessaria. Il secondo disegno di legge, approvato con 17 sì e 14 no, è una omnibus che interviene in diversi settori. Gli articoli più discussi in aula riguardano l'organismo di consulenza tecnica a supporto dell'iniziativa legislativa della Giunta, l'anno di scuola dell'infanzia obbligatoria con colloquio di consulenza e accompagnamento linguistico per la scelta della primaria nel caso di famiglie di lingua diversa da quella della scuola, la limitazione della scala di voti scolastici da 4 a 10, l'affido di incariche e insegnanti della scuola italiana, infine via libera con 29 sì e 2 estensioni anche alle disposizioni sugli appalti pubblici che recepiscono modifiche statali con semplificazioni e aumento dei valori di soglia. In quanto alle proposte dell'opposizione nessuna è stata accolta dalla maggioranza, esse riguardavano aree di compensazione ecologica, suicidio medicalmente assistito, insegnamento nella madrelingua, assistenza estiva ai bambini, abitazioni per chi vive da solo, inquinamento acustico da moto, gli effetti della pandemia e la promozione dell'agri fotovoltaico. Durante la sessione sono intervenuti in aula per presentare la propria relazione sull'attività 2022 la consigliera di parità Michela Morandini e il presidente del comitato provinciale per le comunicazioni Roland Turk. La prima ha riferito di 4.000 contatti per lo più per casi di mobbing e inconciliabilità tra lavoro e famiglia, dello sportello antimobbing e dell'attività per l'inclusione dell'osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità. Il secondo di 650 controversie telefoniche risolte, interventi contro l'odio in rete e del panorama altoatesino dei media con consistenti contributi. Entrambi hanno poi risposto alle domande del plenum.